Sono Enrico Mereacorno di Sportador 24, sono qui con Mauro Ruschetti, i promoter di Salomon, che ci fa vedere lo scarpone per tutti, lo scarpone che può andar bene per qualsiasi tipo di sciatore, l'ideale per il prossimo inverno, l'X-Pro 130 di Salomon. Sì, l'X-Pro 130 è uno scarpone che appunto è collocato anche qui nei test, nell'Hall Mountain Mid, quindi nell'Hall Mountain che parte da un livello argento, quindi da buoni sciatori a scendere. 130, quindi 130 di Flex, è una scarpa già importante come durezza di Flex e indica già un buon livello di sciatori. Il Last è 100 e va da 100 a 106, il Last è la larghezza della pianta. È una scarpa con uno chassis in PU, molto rigido, quindi anche in torsione e in sostenimento, ed è creata in caprolene, che è una plastica che si può modificare col calore, quindi modificandola in un fornetto a 120 gradi e inserendo il piede può variare di forma, poi viene raffreddato e quindi prende la forma del piede già anche la shell, quindi lo scafo. Allora, il Salomon X-Pro 130 è uno scarpone che è adattabile, adatto ad ogni tipo di sciatore, anche perché ha la possibilità di regolare la chiusura in molti modi diversi. Raccontaci esattamente quali. Certo, parte la customizzazione dello scafo, come abbiamo detto, anche la regolazione del gancio 3D, che in questa posizione è una posizione normale, che chiude il collo del piede in posizione normale. Poi, altre due posizioni, con una chiave a brugola si può spostare, questa vita si svita, si sposta nella parte alta per chi ha il collo alto del piede, quindi fascia un pochino più in modo voluminoso. E chi ha il collo magro del piede, quindi deve chiudere più verso il tallone e lo scarpone, si sposta in questa posizione e il gancio chiude in questa direzione, e quindi tenendo fermo il piede contro il tallone. In più, a parte il booster con la chiusura, che è abbastanza ferma, che fascia nella parte alta, abbiamo anche il pad bone dietro, che è praticamente a una finestrella che indica la posizione sport, e quindi risalta il fatto che è un 130, quindi una sciata molto energica. Svitando questa vita e girando la piastrina, si presenta una finestrella, la finestrella va a finire nella parte alta, e c'è la dicitura touring, che definisce la scarpa come più facile, più di flex, meno alto, e quindi più usabile, meno affaticante, diciamo, durante tutta la giornata. Grazie. 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 Voglio condividere una cosa, Mauro. Cominci a spiegarci, nelle logiche, qual è la differenza fra uno scarpone da discesa e uno scarpone da freeride. Beh, lo scarpone da freeride, di sicuro, deve essere una scarpa leggera, che ha la possibilità di poter camminare anche sulle rocce, quindi poi vi farò vedere anche le particolarità di questa scarpa. La leggerezza, la camminata e il flex, che è abbastanza importante, perché comunque uno sciatore che scie in freeride deve essere sostenuto bene dalla scarpa sugli sci larghi che si usano sulla neve alta. E quindi si parte, diciamo che la durezza del 130 è quella ideale? Beh, sì, diciamo che 120-130 è la durezza ideale per una scarpa da freeride. Poi c'è chi le usa un pochino più morbide, chi le usa più dure, però diciamo che indicativamente la scarpa ti deve sostenere, quindi deve essere un flex importante come il 130. Quali sono le caratteristiche particolari di questo QST? Beh, qui abbiamo molte novità perché la scarpa è nuovissima. Prima di tutto la leggerezza, data appunto da molti particolari che la alleggeriscono, che sono queste protuberanze sullo scafo, che sono delle venature più spesse rispetto allo scafo, quindi lo scafo è un po' più sottile, ma con le venature viene sostenuto e trasmette il piegamento allo sci e riceve dallo sci le sensazioni più immediatamente. Sia all'esterno che all'interno ha queste venature che appunto lo sostengono. In più ha questo sistema nuovo che è l'endofit, che è questa lingua molto rigida nella parte anteriore, questa chiusura senza, diciamo, la sovrapposizione dello scafo, quindi ha questa chiusura tipo SensiFit che deriva un po' dalle scarpe da trail che usiamo noi per fare le gare di trail, questa chiusura con questo sistema. E quindi la lingua cosa fa? Permette, a parte che permette anche di isolare l'entrata della neve, perché ha un cuscinetto interno che è chiuso, però la lingua trasmette molto, col piegamento trasmette molto sul piede, va a schiacciare la parte interiore del piede e quindi fa sentire allo sciatore la sensazione di pressione sullo sci e riceve anche dallo sci chiaramente le sensazioni più immediatamente, questo sistema qui. Altri particolari, abbiamo appunto il pivot, gli oversize pivot, che derivano appunto dalla gara, dalle scarpe da gara e sono su quasi tutta, diciamo, su tutta la gamma degli scarponi Salomon. Il pivot dà la possibilità di avere sensazioni diverse, perché è molto più grosso, plastica su plastica, questo pivot qui dà sensazioni diverse sia in spinta che in ricezione delle sensazioni dal terreno. Abbiamo il walk, che è molto importante, questo aggeggio che riesce, questo blocco che riesce a bloccare la scarpa per la discesa e a sbloccarla per la salita, ma è un movimento molto semplice per riuscire a fare determinati 200-300 metri di salita con le pelli, con gli sci larghi, per poi bloccarlo, per far la discesa in un canale o per scendere in neve fresca. Importante è anche la suola, chiaramente è molto aggressiva, è in gomma, intercambiabile, svitando le viti si può mettere anche una suola più aggressiva e più morbida per camminare sulle rocce e anche tra la punta e il tacco comunque c'è una gomma abbastanza morbida per avere la sicurezza sia sulla neve per camminare, perché tiene, e anche sulle rocce per appoggiarsi e poter camminare e muoversi liberamente. Grazie. 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 Grazie.